Va e annuncia a tutti l'amore di Dio. Cristo risorto, buona giornata carissimi amici, buona domenica. Oggi ricorre la solennità della Santissima Trinità. Accogliamo il Vangelo che la liturgia ci propone. Leggiamo Matteo 28, 16, 20. In quel tempo gli undici discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro si prostrarono, essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro, a me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Amen. Cari amici, oggi parliamo della Trinità, è chiaro. Il Vangelo che ci viene dato ci offre uno spunto, un tracciato, una metodologia sul come parlarne. Perché lasciamo perdere oggi in questo commento, sono commenti che devono allietare e alimentare la nostra vita quotidiana. Lasciamo perdere il dogmatismo fisso, statico e concettuale, che fa molto bene alla mente. Ma in questi commenti, sapete, noi abbiamo bisogno di un dinamismo esperienziale, ma soprattutto che aiuti la nostra vita. Ed è proprio come il Vangelo di oggi ci presenta la Trinità, in un'ottica dinamica, missionaria, di evangelizzazione, di annuncio. L'ottica trinitaria, quindi questa missione da dare un contenuto, è un'ottica dinamica. È una missione in cui noi siamo chiamati a battezzare nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ma facciamo un passo alla volta. Innanzitutto Gesù si manifesta dopo la risurrezione, qui è l'ascensione secondo Matteo, di fronte ai Suoi discepoli che, tra l'altro, dice Matteo stesso, dubitano. Gesù è davanti a loro, è risorto, eppure dubitano. Capite che nel cuore dell'uomo, ancora non era sceso lo Spirito Santo, attenzione, però di solito c'è il dubbio. Certo Gesù ci ha detto queste cose, ma io ho un po' di dubbio, un po' di perplessità. Alla luce dello Spirito Santo hanno riascoltato, riletto, ascoltato nel proprio cuore, le parole che Gesù stesso aveva detto loro. A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Gesù parla di exusia, questo potere, questa autorità che aveva finché predicava nelle sinagoghe, alle persone, guariva, liberava, e questa autorità che lui stesso aveva l'ha consegnato alla Chiesa. Pensate che meraviglia! Il cristianesimo non è uno stile di vita monotono, di routine noioso, bensì dinamico, dove la potenza, l'autorità di Dio si manifesta nella sua Chiesa. E la Trinità la vediamo in questa ottica dinamica, missionaria. Gesù dice andate e fate discepoli tutti i popoli. Non ha detto quando avrete capito tutto di me, e mi sembra che l'abbiamo capito a livello concettuale, abbiamo un bel catechismo, vi siederete e direte siamo pronti, tutto va bene, siamo a posto. No! Continuamente Gesù ci dice andate e fate discepoli, perché le persone di ieri sono già in cielo, le persone di oggi ancora non hanno sentito l'annuncio di Gesù. Quindi Gesù mi dice, ti dice vai, credi in me, sei un cristiano, hai fatto l'esperienza mia? Vai, non stare fermo. Dove si mette la Trinità? Ma Gesù ce lo indica. Dice fate discepoli. Cosa significa? Discepoli di Gesù. Discepoli sono coloro che ascoltano, che imparano, da colui che parla. Quindi insegnate alle persone ad ascoltare la mia parola. Come evangelizzi. Insegni a chi è lontano da Dio ad ascoltare ogni giorno la sua parola, ad essere discepolo? O insegni tante preghiere, ma Gesù nemmeno sanno chi sia? O che cosa abbia detto? Insegniamo a coloro che sono lontani che c'è una parola di Dio, dove Gesù ci consegna parole di vita eterna, che ci fanno star bene. Ma soprattutto poi dice battezzate queste persone nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. In greco l'espressione battezzare, baptizzo, significa immergere. Ma noi normalmente abbiamo questo schema fisso mentale. Ecco, dobbiamo dire a tutti, chi non è ancora stato battezzato, andate in chiesa, in parrocchia, chiedete al parroco di battezzarvi, fate un cammino di catecomenato e tutto va bene. Guardate che il battesimo, adesso ne parlo non in modo sacramentale, bensì in un modo esperienziale, come Gesù lo ha detto, è una immersione. Essere battezzati, profondamente qualcosa, non solo di serio, di profondo, che ti trasforma. Il battesimo è un'esperienza dove tutto il tuo essere, dalla cima del capo ai piedi, viene immerso nel sangue di Cristo che è morto e risorto. Quindi battezzare le persone nel Padre, nel Figlio, nello Spirito Santo, cioè nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, significa far fare, permettere alle persone di fare un'esperienza dell'amore di Dio Padre. Ti senti figlio, amato da Dio. Dell'amore del Figlio che sulla croce è morto per te, non è concettuale, è un'esperienza, è dello Spirito Santo che ti dà la forza di seguire Gesù e di amare i tuoi fratelli. Ecco la Trinità in un modo dinamico, ma noi dobbiamo insegnarlo, sperimentarlo e viverlo. Allora vi invito, carissimi amici, ad invocare lo Spirito Santo che ci aiuta in questo cammino. Vieni, Spirito Santo, abbiamo bisogno di te, abbiamo bisogno di essere forti come annunciatori e testimoni del Cristo risorto, dell'amore del Padre e della tua presenza nella nostra vita. Spirito Santo, entra nel nostro cuore oggi. Aiutami ad essere un testimone per portare tante persone ad essere discepoli di Gesù. Spirito Santo, aiutami a vivere da figlio per sperimentare l'amore del Padre e portarlo ai miei fratelli. Aiutami ad incontrare sempre di più Gesù nella mia vita per portare questo amore personale ai miei fratelli. E aiutami a lasciarmi guidare da te, Spirito Santo, che sei la benedizione e la forza dall'alto, affinché io sia un tuo discepolo spirituale, un tuo discepolo che è sempre aperto alla tua opera. A te la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Fratelli e sorelle, ecco lo slogan di oggi. Va, vi annuncia a tutti l'amore di Dio. È l'amore di Dio, è l'amore del Padre, ti senti figlio, amato e non abbandonato. È l'amore di Gesù, il tuo amico, il tuo Salvatore. Ed è l'amore dello Spirito Santo, che ci lega al Padre e al Figlio, ma ci lega tra noi fratelli. Quindi è un dinamismo la Trinità. È un amore che continua e procede nei cuori di coloro che li aprono. Il Corso Filippo è un'esperienza di questo amore. Domenica 2 giugno faremo a Torino il Corso Filippo. Se siete nelle nostre vicinanze, venite e iscrivetevi sul sito, altrimenti scriveteci e vi indichiamo in tutta Italia dove le nostre comunità faranno questo corso. Grazie per avermi accolto. Buona giornata. Ciao. Parla, Signore, perché il tuo servo ascolta. Parlami, Signore, ti ascolto.